Buongiorno, ci troviamo a Rimini alla manifestazione Amici di Brugge e in questo momento io mi trovo con il professore Antonio Pelliccia, il quale ha scritto un libro e il titolo è Marketing Odontoiatrico. Professore, perché un operatore del settore, in questo caso dentista diciamo semplicemente, dovrebbe leggere il suo libro? Diciamo è una collana di libri, questo è il terzo libro che ho pubblicato, i primi due affrontano degli argomenti molto attuali, ancora oggi, anche se sono usciti più di dieci anni fa, è il Management Odontoiatrico, l'altro libro, la Segreteria Odontoiatrica, l'ultimo di questa trilogia, il Marketing Odontoiatrico. Libri attuali per vari motivi, il primo perché tratta prevalentemente un aspetto strettamente economico, il secondo un aspetto organizzativo, il terzo se vogliamo il Marketing li riunisce un po' tutti perché non è solo pubblicità, non è solamente comunicazione ma è anche organizzazione, economia, ecco quello che io posso dire è che questo libro affronta in un modo scientifico il tema del Marketing, quindi non ci limitiamo a dare qualche suggerimento creativo ma facciamo diagnosi, cerchiamo di capire ad esempio quando non serve il Marketing, quali sono gli errori da evitare, a volte si spende in campagne di comunicazione quando magari basterebbe lavorare sul paziente, migliorare il passaparola e soprattutto è una visione etica del Marketing, è una visione di un Marketing deontologico dove anche il Clime dello stesso libro lo accompagna è molto chiaro, non vendere ma fatti preferire e quindi il Marketing sanitario è un Marketing a parte, non è un Marketing di prodotto, è un Marketing di servizio ma è un Marketing di servizio che tocca soprattutto la salute in un momento così particolare dove sulla salute si sta veramente parlando tantissimo. Lei è stato chiarissimo come ci si aspetta da un professore, un docente universitario e adesso per un ascoltatore diciamo medio che cosa dovrebbe preferire nel suo dentista, perché dovrebbe sceglierlo? Il paziente probabilmente sceglie il dentista per molti motivi, il motivo principale per cui il paziente sceglie il dentista è perché si fida del proprio professionista, è un rapporto che non cambierà mai nell'ambito della relazione di fiducia, la fiducia vuol dire metterci la faccia, mettere anche la formazione del proprio team, per carità anche l'immagine, anche la comunicazione è importante in questo, anzi soprattutto oggi la comunicazione perché una volta la fiducia si costruiva esclusivamente con i rapporti interpersonali, oggi la fiducia si costruisce anche attraverso la rete, attraverso il web, attraverso le newsletter, la presenza sul sito, è estremamente importante essere come dicono gli americani up to date, aggiornati, pronti per interpretare i tempi che stiamo vivendo, ma è altrettanto vero che come dicevo ed è per questo che ho voluto far uscire questo libro è importantissimo una diagnosi nel marketing, nelle attività delle comunicazioni, quello che può funzionare per un professionista non è detto che funzioni per tutti, se noi non siamo in grado di capire quello che oggettivamente, quando dico oggettivamente vuol dire con i dovuti sistemi di misurazione, perché poi ci sono dentisti che spendono cifre incredibili di marketing e comunicazione non avranno mai un ritorno, altri invece che non hanno mai speso nulla e quindi soffriranno anche all'interno di quella comunicazione che è indotta tra i pazienti, i familiari dei pazienti. La fiducia, la fiducia è la parola centrale in questi anni, fiducia nel dentista ma anche fiducia in un nome, in un marchio, in una famiglia, in un'organizzazione. È vero che c'è un assunto per il quale talvolta non comparire è meglio a livello pubblicitario? Assolutamente sì, quando noi abbiamo profilato il nostro target. Se noi abbiamo un gruppo di persone e ci rivolgiamo ad un gruppo di persone e questo gruppo di persone vogliamo in qualche modo renderlo esclusivamente partecipe della nostra gestione, del nostro marchio, della nostra organizzazione, allora a questo punto la pubblicità è qualcosa che non va fatta, ma non va fatta perché non se ne ha in quel modo bisogno, cioè non è oggettivamente la cosa più importante che noi dobbiamo in quel momento organizzare proprio perché è superflua, cioè non serve. E come potrei sintetizzare? Dicendo una cosa con un'analogia, facendo un'analogia. La pubblicità è come un farmaco, troppa pubblicità intossica, poca non serve, bisogna dosarla. E mirarla. E assolutamente mirarla. Allora noi le auguriamo tutto il successo che merita per il suo terzo lavoro importante e la ringraziamo. Grazie a voi, buon lavoro, buona fiera. Grazie.